Solito ritornello per la prima della classe, vince, non subisce reti ed esibisce un super Patierno in fase di finalizzazione. Quarta vittoria di fila e settimo risultato utile consecutivo senza incassare gol per il Bitonto che spugna con il punteggio di 3-0 e con una tripletta del suo attaccante il Giovanni Paolo II di Nardò. Patierno sblocca il punteggio in apertura sfruttando un erroraccio di Montagnolo, poi raddoppia poco dopo su assist di Terrevoli e completa il tris personale in pieno recupero. Il Bitonto, la squadra con la migliore difesa di tutti i campionati nazionali della Serie A alla Serie D, resta in vetta la classifica e allunga il passo sulle dirette concorrenti. Abbiamo fatto una prova a Gagliarda di squadra compatta contro una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà, però diciamo che sono contento. Continuiamo ad essere furbi e fortunati e questo ci può servire. Speriamo di essere furbi e fortunati fino alla fine. Bitonto ha più 4 sul Foggia che cade in casa sotto i colpi del Sorrento. Campani assegnò nel primo quarto d'ora con Herrera sul rigore e Gargiulo. Vorrei archiviarla dicendo che metà della colpa del sottoscritto è metà dell'arbitro. Punto e basta. Vediamo la squadra alle prossime partite come reagisce. Mi prendo la responsabilità io perché quando non si reagisce nella maniera positiva dopo un'ingiustizia come quella del rigore sicuramente la colpa è la nostra. Foggia raggiunto in piazza d'onore dal Taranto 5-0 interno all'Agropoli. D'Agostino, Oggiano, Fabetta e due volte Genchi a segno per gli Ionici al terzo successo di fila della gestione Panarelli. C'è stata una bella partita. Sono contento poi per i ragazzi. Sono contenti per loro perché poi alla fine il risultato porta autostima, porta serenità. Si lavora con grande entusiasmo durante la settimana. Quinta formazione interna su sei gare per il Gravina che batte 1-0 al vicino la Fidelis con un gol del solito Santoro. I Biancazzuori reagiscono nella ripresa ma senza trovare la via del gol ed evitare la quarta sconfitta consecutiva. Abbiamo fatto cinque vittorie in casa. Dobbiamo essere anche più cattivi, più cinici, fuori castro. Dobbiamo permettere, non dobbiamo permettere all'avversario sempre di offender prima di reagire. Vedremo da domenica a Fassano quello che riusciremo a fare. L'inizio di un percorso, però io penso che sia un percorso dove ci sono i piccoli segnali importanti da cui dobbiamo ripartire. Abbiamo fatto un secondo tempo assolutamente di spessore. Torna al successo il Cerniola che con il 2-1 interno a Francavilla insieme abbandona la zona play-out. Botta e risposta tra Longo, in chiusura di prima frazione e Mancino, in apertura di ripresa. Poi è lo stesso Longo a regalare tre punti vitale agli Ofantini che inaugurano con una vittoria la gestione Feola. Dobbiamo assolutamente conquistare questi tre punti. È andata bene, penso che anche la reazione dopo il rigore del pareggio si è vista. Esordio con vittoria anche per Dino Bitetto. Il suo Casarano batte in rimonta il gladiatore Alcapozza. Vitiello illude i campani. Mincica e Rosso ribaltano il parziale nella ripresa. Pirotecnico 4-4 invece del Fasano a nocera inferiore. I Biancazzuori non sfruttano due volte. Una situazione di doppio vantaggio, lo 0-2 firmato Serri e Corvino e il 2-4 dopo i centri di via Zeprinari. Ci siamo fatti rimontare la prima volta, poi sul 4-2 ci siamo fatti rimontare la seconda volta. Una partita che penso che abbiamo dominato, l'avete vista ampiamente. Bravi loro a non mollare mai, non abbiamo commesso due grosse ingenità. Non riesce a curare il mal di trasferta. Il team Altamura ha sconfitto 2-1 a Marsi Covetere dal grumento Umbaldagri. Non basta. Imurgia nella rete di Guadalupi per completare la rimonta. Perde in casa 2-0 il Brindisi. La vittoria della Gelbi sono al Fanuzzi. Costa la panchina a Massimiliano Olivieri, undicesimo allenatore esonerato. Su 18 in questo campionato di Serie D. Al suo posto arriva Salvatore Ciullo.